che sennò io il mio acqua è fatto per il video è carino pure che esce poi si, io lo faccio cominciamo così che bello con questa super coda ma dove c'è l'apertura del vius se lo vediamo non lo so zia dove sta l'apertura aspetta come si è bello vuoi andare? aspetta lui guarda e scodinzola adesso è un po' tazzo questo amico tu è un po' tantissimo è un po' tantissimo è un po' tantissimo è birbante è birbante lui sta al piedi ma è il protagonista mi ricorda qualcuno no adesso andiamo di là dove sta Grock? bello così mi ricorda No, 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 no.